buongiorno a tutti e bentrovati alla pubblica domanda risponde oggi parleremo della carta del docente e del bonus premiale andiamo immediatamente la prima domanda sono un docente di ruolo di matematica per l'anno scolastico 2021 2022 posso acquistare con la carta docente una stampante laser con scanner purtroppo con il termine le attività didattiche dell'anno scolastico 2020 2021 vero al 30 giugno 2021 non è più possibile comprare utilizzando il bonus di 500 euro della carta docente scanner stampanti dispositivi mobili per la connessione tavolette grafiche penne elettroniche o webcam i suddetti dispositivi rientravano dell'acquisto con la carta docente in via del tutto eccezionale dall 11 marzo 2020 fino e non oltre il 30 giugno 2021 seconda domanda nella mia scuola il bonus del merito viene assegnato dalla dirigente scolastico solo ai docenti sulla base di criteri stabiliti dal comitato valutazione e vorrei sapere se è una cosa giusta no si tratta di una vecchia procedura superata dalla legge di bilancio 2020 bisogna ricordare che con la legge di bilancio proprio del 2020 all'articolo 1 comma 249 è previsto che le risorse del bonus del merito dei docenti siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico senza un ulteriore vincolo di destinazione quindi potrà essere assegnato anche al personale a da oltre che al personale al rigore di legge quindi il bonus del merito dovrebbe entrare ad essere utilizzato dalla contrattazione integrativa e non potrebbe essere più gestito dal dirigente scolastico senza che vengano stabiliti criteri di distribuzione con un accordo di natura contrattuale con la rsu di istituto terza e ultima domanda se con la carta docente decidessi di cumulare le 500 euro dell'anno scolastico 2021 2022 con l'altra somma di 500 euro previsti per l'anno scolastico 2022 2023 potrei acquistare un ipad da 1000 euro se la carta docente continuerà ad essere finanziata dalle prossime leggi di bilancio che continuerà ad esistere come la conosciamo oggi sarà possibile per un docente di ruolo cumulare i bonus da 500 euro di due anni scolastici consecutivi cioè del 2021 2022 anche quello del 2022 2023 per acquistare entro e non oltre il 31 agosto del 2023 l'ipad da mille euro arrivederci a tutti alla prossima puntata cioè a mercoledì prossimo di nuovo arrivederci ciao 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 ciao